Benvenuti nella famiglia Malossena. Fermi! Comincia da Lehman. Il capo del personale. Il signor Malossena desidera dell'ufficio di Clemen. Entro nell'ufficio, c'è Lehman serissimo, sempre con i suoi occhialetti, e una cliente, che a prima vista non sembra contenta. Carbonizzata, tutta la cena di Natale. Solo una ringa è sopravvissuta. Il suo lavoro in che consiste esattamente? Nel farmi strapazzare. È licenziato. La impacchettiamo per le feste e la buttiamo nell'imbondizia. Finché i clienti che danno problemi non rinunciano a fare causa. Ma non vale la pena di arrivare a questo? Ma sì. Ma no? Ma sì. Io sono un capo espiatorio. Capo respiratorio? Non dire cazzate. Therese, modere il linguaggio, non parlare come tuo fratello. Ma che scema rompi i coglioni. Jeremy, modere il linguaggio, non parlare come tua sorella. Chi se ne frega, ho scollegato il piccolo. Che ha detto? Oltre alle mie speranze, un vero capo espiatorio. Questo lavoro non è degno di te. Devo mantenere la famiglia. Mia madre sforna figli per il mondo e poi li manda a Belleville. Chi si occupa di tutto, io me ne occupo. Che succede in questa famiglia? Lei fa un curioso mestiere che attira grossi guai presto o tardi. Sono una giornalista. Non vuole che facciamo conoscenza? Sono bravo a riscaldare i piedi. Ti sembro quel genere di donne? Quando lo finite con tutte queste smalcerie, posso mostrarvi la mia bomba? Cosa? Hai fabbricato una bomba? Lei è il nostro principale indiziato. Dov'è Marossena? Normalmente è sulla luna, scende solo per atterrare della merda. Siamo in pericolo? No, no, è un gioco. Mi prendi per il culo? Che farai senza un lavoro? Vivrò d'amore e d'acqua fresca. Pensa all'acqua fresca, io penso al resto. Ho visto molte cose orribili nella mia carriera, ma il suo pigiama porta a casa il primo premio.